Ciao a tutti, oggi su Instagram ho fatto una domanda nelle storie dove chiedevo di dirmi delle cose per cui fare una sottospecie di pro e contro. Siccome io non sono molto professionale, ho solo il telefono e non posso registrare mentre guardo le domande, l'unica cosa è scrivermi nel petto di carta. Per cui cominciamo. Allora, sei pro o contro la martingala? Allora, secondo me la martingala, se è utilizzata come fanno alcune persone per evitare che il cavallo tiri la testa in alto, secondo me è ancora peggio perché il cavallo tenderà ad alzarla sempre di più perché è infastidito dalla pressione. Per cui, secondo il mio modesto parere, si può benissimo evitare. Sottocoda. Per il sottocoda non ci trovo niente di male alla fine, però secondo me bisognerebbe stare un po' attenti perché c'è chi lo mette sotto e troppo tirato. Per il sottocoda fondamentalmente è una sottospecie di pettorale, al contrario, che serve per evitare che la sella vada troppo avanti, mentre il pettorale serve per evitare che la sella vada troppo indietro. La sella, non la sedia, certo, hai ragione Giulia, sì. E poi, redini di ritorno. Allora, diciamo che, secondo me, le redini di ritorno, per l'uso che ne fanno gran parte dei cavalieri di questa generazione, diciamo, sono usate nella maniera sbagliata. Perché significa che, praticamente, la tua mano non sa ben comandare il cavallo e ha bisogno di altro per comandarlo. Per cui, diciamo che non ci trovo un grande utilizzo per lavorare in piano. E se proprio, magari, qualcuno non può farne a meno perché la sua mano è troppo delicata e non riesce a ottenere quello che vuole, così, e magari ha bisogno di un attimo di aiuto, sono delle cose da utilizzare per dire una volta ogni morte di papa. Perché sono convinte che si possano utilizzare semplicemente le nostre mani e il nostro assetto per ottenere ciò che si vuole. Sicuramente non è uno strumento da dare nelle mani a dei principianti o che comunque non ha consapevolezza del proprio corpo. Speroni. Allora, io non sono contro gli speroni perché io li ho utilizzati, li utilizzo, però, ripeto, anche questo non andrebbero dati ai bambini che sono alle prime armi o a cavalieri che sono alle prime armi perché comunque, essendo che non sanno utilizzare bene le gambe, potrebbero provocare delle fiaccature ai cavalli che, sinceramente, potrebbero anche evitarsi. Io, per esempio, li utilizzo solo in alcuni casi, ma per il semplicissimo motivo che io ho un problema nel dare le gambe e, fondamentalmente, il mio tallone non arriva alla pancia del cavallo per dare gambe e quindi ho bisogno di qualcosa che colleghi il mio tallone alla pancia del cavallo, tutto qua. Fascia di rispetto. Non ho niente contro la fascia di rispetto, se un cavallo ha bisogno di avere utilizzato gli speroni ma la pancia o comunque il suo pelo è molto delicato, perché non utilizzarla? Si evita che il cavallo si faccia del male inutilmente. Tosatura. Allora, secondo me ci sono dei casi differenti e che per il quale il cavallo deve essere tosato. Se il cavallo ha dei problemi di salute per cui il quale la tosatura è obbligatoria, c'è poco da poter fare. Per quanto riguarda la tosatura per bellezza o tipi di tosature strane, secondo me non hanno senso. La tosatura ha un certo qual senso quando, per esempio, io dovrò... Cioè, spero che abbiano già tosato Benurb perché il cavallo ha il pelo troppo lungo e essendo che io non vado a montare di mattina quando il cavallo fa tutto il tempo per asciugarsi ma vado a montare nel tardo pomeriggio, quindi non ho la possibilità di asciugarlo per bene rischierebbe di prendersi una polmonita o cose del genere perché dove ho io il maneggio c'è molta, molta umidità preferisco tosarlo in modo che se per puro caso suda, come è successo in questi giorni può tranquillamente asciugarsi più velocemente. Salti di potenza, assolutamente contro perché comunque, secondo me, non ha senso sforzare il cavallo fino a un certo punto. Per me alcune gare, tipo anche le 160, potrebbero anche essere abolite e fermarsi a gare molto più tranquille come le 140 alla fine si possono fare anche gran premi di 140 non c'è per forza la necessità di andare a fare gran premi o cose molto più alte. Morso portoghese e speroni spagnoli perché li ho inseriti insieme? Allora, io non conosco approfonditissimamente questa monta però ho avuto una signora nel mio vecchio maneggio che la praticava e molto sinceramente vi dico che come la praticavano loro quindi praticata da quelli che mettono il cavallo in box e lo frustano lo mettono alle poste e lo frustano per fargli alzare i piedi per fargli ottenere delle cose secondo me è più che sbagliato come è sbagliato anche che alcune persone che praticano questa monta perché non faccio tutta l'erbo un fascio usino le staffe di ferro che provocano tantissime e tantissime fiaccature cavalli e talle cavalli e l'ho visto quindi per me è assolutamente scorretto si possono insegnare anche questi movimenti più complessi senza per forza utilizzare metodi coercitivi pesanti imboccature eccessivamente pesanti o cose troppo strane la droga è nei cavalli da corsa per me dopare un cavallo per qualsiasi motivo è sbagliato doparsi anche le persone per ottenere delle prestazioni più alte è sbagliato perché poi sono cavalli che l'ho visto con i miei occhi che fatti di queste sostanze non riescono a capire e a uscirne perché li drogano talmente tanto che quando poi per un tot di tempo non la ricevono stanno male vanno in crisi di astinenza come le persone non è un bel vedere ve lo posso garantire non è affatto un bel vedere chiudi bocca per me chiudi bocca non ha alcun senso perché si può benissimo evitare l'azione che il cavallo chiedo scusa che il cavallo passi la lingua sopra l'imboccatura semplicemente utilizzando un'imboccatura più leggera è diversa che diamo fastidio anzi vi dirò di più secondo me sarebbe più utile che molti cavalli che hanno possibilmente una bocca più particolare rispetto ad altri invece di aver inserito dei morsi eccessivamente troppo pesanti vadano montati periodicamente senza imboccatura in modo che riescano anche da soli a trovare un equilibrio e il loro modo di esprimersi ecco poi imboccature pesanti allora io sono convinta che l'utilizzo di imboccature pesanti per cercare di frenare un cavallo sia una cosa sbagliata perché molto spesso il cavallo acquista velocità eccessiva davanti a una determinata cosa perché non gli si è insegnato ad amarla ma piuttosto gli si è insegnato a scappare a cercare di sbrigarsi e togliersi tra virgolette il problema per cui questa sarebbe la cosa migliore come ho detto prima cercare di togliere completamente l'imboccatura per un periodo se devo parlare dell'imboccatura che io odio di più a questo livello è l'associazione morso e filetto per me è un'associazione assurda inutile nei puletri perché l'ho visto utilizzare anche nei puletri ma voglio morire lasciamo stare perché ripeto non porta a mio potesto parere a eccessivi risultati tutto quello che sto dicendo sono le mie personalissime opinioni ripeto non c'è una una specifica sono le mie opinioni di cosa di come mi comporterei io di cosa farei io ovviamente ci sono istruttori e persone che la pensano in maniera differente da come la penso io il mondo è bello perché vario quindi buona così poi l'acmore allora io non sono contro l'acmore purché non sia l'acmore tedesco a leve lunghe quindi può essere un acmore a leve corte o un flower acmore o altri tipi di acmore che non sono l'acmore tedesco fondamentalmente le pastoie per me le pastoie sono una delle cose più inutili di questo mondo perché a un certo punto se proprio uno ha necessità di tenere il cavallo in un determinato terreno perché non lo può tenere da un'altra parte piuttosto costruisce una recensione più alta che il cavallo non possa scavalcare non possa saltare soprattutto non con la recensione elettrica in modo che comunque il cavallo possa stare dove vuole abbia un grande spazio ma non rischi di oltrepassare la recensione in alcun modo esistono tante alternative alla recensione elettrica basta guardare un po' in giro il soaring allora per chi non lo conoscesse il soaring è una cosa un movimento fatto fare ai cavalli dovrebbero essere in particolar modo credo gli acaltichi credo perché non sono così sicura che viene fatto fare il mio coniglio mi sta facendo incazzare ai cavalli mettendo nei loro zoccoli dei pesi che sono catene ferri strani o anche una sostanza che brucia la parte del piede e provoca quel movimento accentuato durante il trotto per me questa è una disciplina che andrebbe assolutissimamente abolita perché a mio parere insieme alle crosse clandestine e quant'altro la droga eccetera sono cose che per me non dovrebbero neanche esistere cioè la trovo forse uno dei più grandi abusi che ci sono attraverso i cavalli di questi tempi altra ultima domanda è se sono pro contro il palio di siena bene questa è una domanda un po' particolare perché conosco siena conosco in parte il palio e vi dico quello che penso per come quello che è il mio ragionamento il palio più che essere abolito dovrebbe essere un po' più sistemato dovrebbe essere fatto in dei luoghi appositi fatti apposta più larghi in modo che così i cavalli non rischino di farsi del male fatto semplicemente con più misure di sicurezza piuttosto che fatto in quella piazza del campo comunque in tutta la zona di di siena del centro città che sicuramente essendo che comunque è una zona fatta per macchine motorini o comunque è a passaggio pedonale non è abbastanza confortevole per poter garantire uno svolgimento del palio secondo me più meno privo ecco no privo di rischi ecco diciamo che la frase corretta è questa niente detto questo io vi saluto ci vediamo al prossimo video vi ricordo che queste sono mie opinioni personali e non voglio offendere nessuno e non giudico nessuno sono quello che penso io quindi che nessuno gridi allo scandalo nessun istruttore nessuna persona e niente ci vediamo al prossimo video ciao ciao